Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch per passare i veicoli agli amici Forse magari per qualcuno non è tanto nuovo Però diciamo che per rincominciare a fare un video Ho voluto portare questo video qui ragazzi Allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico che ci passa l'auto e che ci spingerà Il centro operativo pieno ragazzi è messo in una posizione in cui parta l'animazione ragazzi Quindi fate bene attenzione che deve partire l'animazione E la base operativa piena ragazzi Quindi vi dirigete verso la vostra base operativa che deve essere piena E il vostro amico a questo punto vi dovrà spingere fino ad arrivare al vostro centro operativo Ragazzi è abbastanza semplice E quando vi avrà posizionato dietro al vostro centro operativo e vi dirà Che sarete pronti per poter fare il glitch L'unica cosa che voi dovrete fare è X per accettare il messaggio di base operativa piena Freccia destra per entrare nel centro operativo mobile E appena vi comparirà la scritta della schermata del centro operativo mobile che è pieno Dovete accettare quel messaggio ragazzi Dopodiché vedrete un lag pazzesco e dovrete premere triangolo Per ovviamente salire sull'auto del vostro amico Ma adesso andiamo a vedere come fare il tutto A me intanto stanno spingendo E quando saremo pronti andremo a vedere Quindi a questo punto andremo ad accettare il messaggio Freccia destra Accetteremo il secondo messaggio E come vedete parte l'animazione C'è un lag pazzesco E noi ovviamente dobbiamo premere triangolo Come abbiamo visto Salirà in auto E ci teletrasporterà nel centro operativo ragazzi È abbastanza semplice Anzi non abbastanza È semplicissimo A questo punto riuscite e rientrate nel centro operativo E il gioco è fatto ragazzi Dovrete semplicemente uscire e rientrare L'auto sarà vostra Per maggior sicurezza L'unica cosa che potete fare è spostare l'auto dal centro operativo In un garage E il gioco sarà fatto ragazzi Avrete la vostra auto gratuita Ragazzi io Per questo video Finisce qui Non ho nient'altro da aggiungere Penso che il glitch sia abbastanza semplice Spero di seguire in giornata con altri video Detto questo Un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti